Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che ormai quando mi vedete seduta in questo punto qui capite subito che si tratta di un video haul e così sarà perché ho fatto alcuni acquisti in vista della partenza per le vacanze e ho approfittato un po' dei saldi, ho fatto acquisti anche di cose non in saldo e ho qualche altra cosina che non ho acquistato da farvi vedere ma andiamo subito nell'ordine con tutto la prima cosa prima di passare agli acquisti non è un acquisto ma è un regalo che ho ricevuto da un giovanissimo brand che devo ancora lanciare sul mercato italiano ed è questo brand di noleggio e di abbigliamento sto facendo una collaborazione con loro però non sono pagata per parlare di loro mi hanno regalato delle cose che adesso vi farò vedere il brand di cui stiamo parlando è Alta Classe Ren che è un nuovo brand italiano che offrirà abbigliamento a noleggio ma non il classico abbigliamento da cerimonia ma abbigliamento da tutti i giorni la cosa più interessante tra tutte è il fatto che non hai solo un capo o un outfit a disposizione quindi non scegli solo una cosa da indossare in una certa occasione ma puoi abbonarti e avere un numero di outfit diversi dai 3 ai 6 capi da abbinare tra di loro, da indossare durante la durata di un intero mese e la cosa più divertente è che non devi nemmeno stirarli né lavarli perché ti arriva già tutto pronto li indossi, li rimandi indietro e ci pensano a tutto loro li lavano, li stirano, li igienizzano la cosa più innovativa sul mercato italiano perlomeno è che tutto questo verrà offerto al prezzo di un abbonamento mensile che ci permetterà di risparmiare un po' di soldini perché spesso acquistiamo molte cose e riempiamo l'armadio e molte volte, anche io sono colpevole, indossiamo e sfruttiamo poco le cose che acquistiamo per cui in questo modo magari si riesce a spendere qualcosina di meno ma non si riempie l'armadio, ci sono sempre cose nuove e soprattutto cosa fondamentale è che ci impegniamo un po' più attivamente nella tutela del nostro ambiente, del nostro pianeta perché in questo modo evitiamo di acquistare un sacco di cose che poi non vengono sfruttate abbastanza questa è un'idea assolutamente geniale perché ti risparmia un sacco di soldi, tempo e perché no un sacco di ragionamenti su cosa indossare e cosa scegliere come outfit perché poi ci sarà la possibilità di inserire i propri dati le proprie misure all'interno della piattaforma e loro rielaborandoli con un sistema molto sofisticato di ricostruzione in 3D vi daranno proprio i capi che saranno fatti su misura per voi allora, le cose che hanno mandato a me io ormai ho già aperto il pacco perché non avevo più la pazienza di aspettare di fare questo video per cui l'ho già spacchettato ma ho conservato tutto perché volevo farvi vedere anche il packaging che è davvero molto molto originale non è il solito packaging noioso ma una cosa un pochino più particolare un pochino più ricercata la scatola in sé è molto carina perché è decorata con questo fiore caratteristico del marchio e poi dentro ci sono le cose che mi hanno spedito loro ho ricevuto una bellissima mascherina in cotone per calle con il marchio, ovviamente ve la faccio vedere subito questa è davvero molto carina infatti riporta il marchio, c'era sia bianca che nera io l'ho scelta bianca perché mi vedo di più con la mascherina bianca non mi piace tanto quella nera e il cotone è davvero di un'ottima qualità e anche i dettagli sulla mascherina sono davvero molto molto carini e molto ricercati qui dentro invece c'è un outfit che loro hanno creato apposta per me l'ho già provato ed è proprio cucito su di me mi valorizza davvero tantissimo il fisico ho ricevuto questo paio di pantaloni che sono davvero bellissimi sono un blu navy con questa fascetta qui ma sono davvero molto molto eleganti ma sono indossabili comunque anche tutti i giorni magari in ufficio c'è di nuovo il dettaglio del fiore con questa bellissima spilla e li trovo davvero molto eleganti e adesso li indosso e ve li faccio vedere insieme a questo top che è in cotone ma è un cotone davvero morbidissimo ed è super comodo e mi sta davvero alla perfezione vi lascerò ovviamente qui sotto nella descrizione tutti i dettagli per trovarli online sui social e per poter dare un occhio a tutto quanto iscrivervi magari alla piattaforma il sito e spero davvero che questa idea possa essere utile a tanti di voi perché è un'idea davvero carissima e molto molto utile questo è l'outfit indossato ovviamente con questo top e magari senza il fiore diventa un outfit da tutti i giorni perfetto anche per andare in ufficio mentre con il fiore con un top un pochino più elegante magari un paio di scarpe un pochino più eleganti diventa un outfit per occasioni un pochino più speciali io sono davvero innamorata di questi pantaloni li trovo davvero bellissimi sono perfetti su di me e penso che sono proprio azzeccatissimi come stile hanno proprio intuito esattamente quello che è il mio stile e quello che mi piace di più da un paio di pantaloni anche perché non mi hanno chiesto nulla sulle mie preferenze hanno fatto tutto loro e trovo che sono stati davvero bravissimi ora però dopo che abbiamo iniziato il video in modo responsabile, consapevole e con un occhio verso la sostenibilità passiamo agli acquisti e sarò sincera non ho acquistato troppe cose però comunque mi sono lasciata un po' prendere dall'entusiasmo delle vacanze e ho comprato un po' di cosine ma erano tutte utili perché non ho cose da indossare in estate sono tutte cose vecchie che ho da diversi anni nell'armadio quindi c'era bisogno di rinnovare un po' anche perché gli ultimi acquisti che avevo fatto erano più di cose da indossare in ufficio e quindi cose da utilizzare solo in vacanza o comunque nel tempo libero non ne avevo tante ed erano tutte consumate la maggior parte delle cose per cui ho dovuto un attimo svuotare l'armadio e cercare altre cose nuove da acquistare non so nemmeno da cosa partire probabilmente però partirò dalla cosa che grida di più vacanza infatti la cosa che grida di più vacanza è il costume perché quasi tutti andremo al mare o in pescina almeno una volta per cui il costume è assolutamente necessario e ne ho acquistato uno davvero bellissimo questo l'ho preso da H&M e lo trovo davvero molto molto elegante e molto bellino è a righe bianche e beige ed ha questo stile un po' vintage mi piace davvero tantissimo ne ho solo altri due di costumi tutti gli altri sono rovinatissimi e quindi volevo averne un terzo perché mi piace alternare i costumi anche quando sono al mare per cui questo era un acquisto assolutamente necessario tra l'altro questo era super scontato l'ho pagato 12 euro la parte sopra e invece la parte sotto costava 13 euro e non era scontata ecco il costume ovviamente indosso solo la parte sopra perché la parte sotto la devo ancora lavare e non voglio indossare le cose non lavate ma direi che è perfetto bellissimo vedrete tutto il costume intero magari nel prossimo video per cui sei giunto però mi sento molto anni 50 con questo costume poi altre cose che ho acquistato da H&M sono questo elastico qua che è davvero elegantissimo perché è un misto cotone lino e quindi sembra un pochino più high profile e non tanto fast fashion e io infatti scelgo sempre tessuti naturali perché in questo modo evito quella sensazione di indossare capi super cheap quindi questo era perfetto e adoro gli scrunchi ultimamente perché mi leggo i capelli tipo in un low bun e poi metto lo scrunchi sopra e mi piace un sacco l'effetto che dà questo non era scontato costava 5 euro però è un ottimo acquisto perché gli scrunchi sono assolutamente indispensabili in estate perché i bun sono la cosa più semplice da realizzare e la più elegante tra tutte le soluzioni poi altre cosine che ho preso sono dei vestitini ne ho preso uno con i fiorellini questo è un vestitino lungo ma non troppo è un vestitino stile longette ma è molto molto elegante mi dà la sensazione di essere una principessa quando lo indosso è molto facile da indossare anche sopra il costume oppure si possono aggiungere le bretelle che sono incluse però è davvero un vestitino molto bello e molto elegante da indossare in estate tra l'altro era scontatissimo l'ho pagato solo 14 euro quindi è un ottimo affare per me però anche qui è un vestito in cotone e quindi perfetto per l'estate per le temperature alte questo vestitino è davvero la perfezione in persona amo davvero tantissimo sia il modello che il motivo floreale quindi questi fiorellini così delicati e carinissimi il corpetto è davvero perfetto non mi stringe non mi salargo proprio la taglia è perfetta per me sta su anche senza le bretelle però volendo si possono aggiungere perché sono incluse questa è una taglia XS e lo amo alla follia lo avevo già adocchiato un po' di tempo fa però non era ancora in saldo e avevo altre priorità in quel momento da acquistare per cui non l'ho acquistato ma adesso sono davvero felicissima di averlo comprato anche la lunghezza è perfetta per me e penso che lo indossero davvero tantissimo sempre in questo stile qua ma in un altro colore ho acquistato anche quest'altro vestitino qua che è sempre still longette però questo è di questo colore un po' verdino mischiato al giallo e al turchese è un colore un po' azzardato per me perché io di solito non amo tantissimo il verde non ho un abbigliamento verde se non un maglioncino e questo l'ho preso perché mi piaceva davvero tantissimo come mi stava addosso proprio il colore mi faceva proprio risplendere a mio parere poi ditemi voi se non è così e mi sono decisa di acquistarli entrambi questo l'ho pagato un po' meno costava infatti 12 euro però mi piacevano davvero tantissimo entrambi quindi non ho potuto lasciarli lì anche questo ha le bretelle incluse per cui è perfetto per l'estate questo è la versione verdina è un colore un po' azzardato per me ho solo un altro maglione in questo stile qua in questi colori qua però forse ho scoperto un colore che mi sta bene poi ditemi anche voi come mi sta però trovo che sia davvero molto molto elegante questa combinazione di colori lo so che ho già detto mille volte eleganti in questo video ma amo sempre scegliere cose eleganti anche se sono da indossare in giornate un pochino più casual perché mi piace essere vestita bene ed essere sempre presentabile per cui anche nelle cose tipo questa che ho preso un po' come coppie costume o da mettere in vacanza voglio che siano eleganti e belle e che abbiano uno stile molto molto femminile e questo è davvero perfetto non c'è molto da dire è comodissimo, bellissimo e soprattutto freschissimo perché è in cotone per cui perfetto per le giornate super calde passiamo ora agli acquisti di Zara all'acquisto in realtà perché ho compiato una sola cosa in questo momento Zara non mi sta ispirando per nulla speriamo in autunno torni a ispirarmi un pochino di più ho preso questa bellissima camicia che ovviamente non era in saldo perché è una linea continuativa è molto elegante molto anche autunnale per cui sarà perfetta sia quest'estate ma anche durante l'autunno perché la indosserò non stop in questo periodo mi piace un sacco indossare una camicia oversize sopra un outfit tipo pantaloncino e top super corto in questo modo si indossa la camicia sopra e la si lascia aperta per un outfit super rilassato ma allo stesso tempo che ti ripara da vento o sole troppo alto oppure se si deve essere un pochino più presentabile un pochino più eleganti la si può chiudere e legare in vita e così l'outfit è perfetto anche per altre occasioni che richiedono un abbigliamento un pochino più elegante ad esempio se sei in una città vuoi visitare una chiesa puoi benissimo chiuderti la camicia ed essere pronta anche per quel tipo di ambiente questo è il mio modo preferito di indossare le camicie oversize come vi dice ho sopra un outfit molto casual sotto ho un paio di pantaloncini e un top corto mentre sopra c'è la camicia e quando è necessario la si può chiudere e diventa subito un outfit adatto a più occasioni ho acquistato un'altra cosa e questa volta abbiamo un top che ho acquistato da Stradivarius non acquistavo da Stradivarius da parecchio tempo saranno quasi due anni ma non riesco più a trovare cose che mi piacciono e stavolta però sono riuscita a trovare questo top che mi piace davvero tantissimo perché è davvero stupendo è in questo stile che va tantissimo ora tipo crochet ed è infatti realizzato a mano lo trovo davvero prezioso è molto molto bello per quest'estate per le vacanze e perché no in autunno magari sotto un blazer con un paio di pantaloni andrà ancora bene sono certa dietro è in cotone ma comunque tutto il tessuto è super naturale super fresco e perfetto per questa stagione l'ho pagato pochissimo era scontatissimo costava solo 6 euro ed è stato un super affare per me perché l'ho trovato per caso ogni volta che indosso questo top me ne innamoro sempre di più e davvero non vedo l'ora di indossarlo fuori casa perché è davvero perfetto ora passiamo agli acquisti un pochino più non da vacanza perché sono acquisti proprio utilissimi ho acquistato un paio di pantaloni in sile e pigiama da indossare in casa in autunno e in inverno questi sono super indispensabili per me perché sono comodi caldi ma soprattutto presentabili non è proprio una tuta slavata o sciatta sono comunque un po' elegantini e con una felpa un maglione sopra sono comunque un abbigliamento molto carino da indossare in casa li ho presi da Oisho ed erano in saldo non mi ricordo bene quanto sono costati forse 12 euro qua c'è il prezzo originale che era 16 euro però erano comunque scontati quindi forse le ho pagati 11 o 12 euro adesso non mi ricordo questi pantaloni sono davvero la perfezione perché sono comodissimi e di un cotone davvero molto molto morbido e come vi dicevo sono anche carini da vedere per cui mi sento vestita bene anche quando sono in casa poi ho comprato altre cosine ho comprato questo reggiseno grigio molto molto bello me ne sono innamorata subito ed era scontato l'ho pagato 15 euro ma era proprio troppo bello per essere lasciato lì e ne avevo bisogno per cui l'ho comprato ho comprato poi anche le mutandine ovviamente dello stesso tipo perché mi piace un sacco avere l'intimo abbinato e ne ho prese tre paie perché le mutandine si consumano sempre di più perché ovviamente le laviamo magari più spesso perché vengono cambiate ovviamente tutti i giorni e quindi in questo modo riuscirò ad alternarle un pochino di più e si consumeranno si spera nello stesso modo in cui si consumerà anche il reggiseno nel tempo e non avrò il reggiseno ancora nuovo in un'antenne questo è il reggiseno anche qui non indosso la parte sotto finché non la lavo per cui non ve la posso far vedere indossata però vabbè direi che ci siamo sono solo delle mutande non cambia molto mentre questo davvero lo trovo perfetto soprattutto per chi è un po' come me passiamo ora agli acquisti che non sono più di abbigliamento in materia di abbigliamento questo è tutto perché non mi servivano troppe cose volevo solo qualche vestitino un po' tipo da indossare sopra il costume o un pochino più così non troppo impegnativo per un outfit tranquillo è facile da indossare con qualsiasi cosa in qualsiasi occasione poi però ho acquistato anche alcune cose che mi servivano in materia di beauty e ho preso uno spray idratante protettivo protezione solare di Alma K con SPF 50 l'ho voluto comprare perché ho comprato un po' di tempo fa dei prodotti Alma K e mi sono piaciuti davvero tantissimo e quindi l'ho voluto prendere anche in versione solare il profumo è davvero buonissimo ed è anche molto leggero mi piace un sacco già da subito ora che lo sto applicando ma vi farò sapere come mi sono trovata una volta utilizzato in spiaggia perché bisogna testarlo ovviamente anche in quelle condizioni poi altre cosine che ho acquistato sono andata da Pico e ho preso un po' di refill di cose che mi sono finite ho acquistato il mio mascara il solito Luxurious Lashes il maxi volume brush è il solito l'avete già visto in diversi video però è il mio preferito e quindi lo acquisto sempre quando mi finisce e poi stavolta ho acquistato un'altra cosa un po' diversa perché ho voluto provare Luxurious Lashes però in versione waterproof perché magari lo proverò al mare per essere un pochino più presentabile però vi dirò come mi sono trovata perché non l'ho mai provato per cui questo è solo una prova che voglio fare poi ho riacquistato la mia matita che mi sta per finire la matita per gli occhi e la mia solita matita quella marrone Intense Color Long Lasting Eyeliner è di questa linea qua ed è questo marrone qua un po' brillantinato però non troppo e mi piace tantissimo la uso da parecchie ormai e non intendo cambiarla per cui siccome mi era finita sono andata a ricomprarla ho comprato questi eye patch che sono degli eye patch nutrienti per il contorno occhi e sono all'estratto di miele non li ho mai provati vi dirò quando mi sono trovata e poi ho ricomprato le salviette opacizzanti quelle che servono per togliere l'eccesso di sebo dal viso e questa è una cosa che purtroppo mi tocca particolarmente e ho sempre bisogno di passarle almeno un paio di volte durante la giornata per avere sempre il viso fresco e queste sono davvero perfette le ho già riacquistate altre due volte e mi piacciono un sacco sono arricchite con tè verde e quindi hanno anche un po' un effetto antibatterico che è davvero importante per noi che abbiamo questo problema di sebo sono un po' sbadatina oggi mi sono dimenticata di farvi vedere un altro paio di cosine che avevo acquistato un paio di settimane fa e che non ho ancora indossato ma anche queste sono assolutamente state acquistate in vista delle vacanze perché sono proprio cose molto molto basic la prima è questo vestitino qui bianco super carino ma super funzionale proprio un vestitino proprio da battaglia da indossare sopra il costume è perfetto perché ti permette di rimanere elegante però anche se lo macchi con qualcosa non ti dispiace troppo perché non costa tantissimo questo non era scontato l'ho pagato forse 17 euro se non ricordo male e poi sempre per questa ragione qui per avere cose da indossare al mare e non macchiare quelle che mi piacciono di più le mie cose preferite ho acquistato questo top qui beige da indossare magari sopra un pantalone bianco o sopra il pantaloncino bianco adesso vi faccio vedere tutto quanto e poi quest'altro top qui molto semplice però sono sempre utili queste tipologie di top soprattutto in estate perché le indossi sopra una parte sotto un pochino più interessante e l'outfit è completo e perfetto soprattutto perché non richiede troppo impegno per metterla insieme questo top l'ho preso proprio per indossarlo con questi pantaloncini qua per renderli un pochino più casual perché sono molto versatili e se sopra indossi un top un pochino più elegante diventa subito un outfit elegante mentre con un top un pochino più casual si possono indossare anche in modo un pochino più sbarazzino e questo è un full outfit Zara questi li ho acquistati un po' di tempo fa e ve li ho già fatti vedere in un altro video che vi linkerò qua sotto nella descrizione o qua sopra così lo potrete andare a vedere se vi dovesse interessare questo top di Zara è perfetto da indossare al mare sopra un costume o anche come top per andare in giro perché no è perfetto sopra un paio di pantaloni o un paio di pantaloccini a vita alta questi mi stanno un po' larghi per cui per farli stare bene devo mettere la cintura ma direi che è perfetto sto indossando il vestitino sopra il costume proprio per trasmettervi l'idea per cui l'ho acquistato e direi che sopra questo costume diventa ancora più particolare ancora più bellino però questo è un ottimo modo per rendere un semplice vestitino bianco un pochino più speciale e più carino direi che questo video può finire qui spero di avervi dato un po' di ispirazione e di avervi dato un po' di idee su come abbinare le cose in vacanza ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video per cui ricordatevi di mettermi un like e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto io vi mando come sempre un mega abbraccio ci credesco e alla prossima ciao